Abbiamo le cuffie nuove, ma basta, direi che è sufficiente per l'intro, triste, intro Torniamo su Clash Royale finalmente, perché è un po' che non facciamo un episodio di Clash Royale e per chi non lo sapesse, l'ho postato su Instagram, seguiteci se non lo fate ancora che ho trovato la capra, cioè la domatrice di capre, dicasi le domatrici di Johnny Domatrici di Johnny, molto molto bella secondo me perché unisce il gigante goblin con l'ariete a me l'ariete già piaceva, il gigante goblin mi faceva un po' che gare, ma la domatrice è molto forte Il gigante goblin qual è quello? È quello con due goblin sulla schiena che picchiano la gente Ah, ok, no forse non lo conosco Vabbè, comunque, a parte che è stata Comunque, ho provato a strutturare un piccolo mazzo che secondo me potrebbe funzionare anche queste rene con la capra E direi che ho fatto un paio di partite può funzionare, è tipo un cycle deck ma neanche troppo Vediamo come va, vediamo come va perché ho fatto una partita solo prima e basta Prima ci avevo messo l'infernale al posto della lapide era un po' più pesante, adesso l'ho alleggerito perché ho una sola meccanica d'attacco, cioè la capra e basta È l'unica per scondare? È l'unica meccanica d'attacco, cioè non è che posso attaccare in altri metodi Sì, posso attaccare in altri metodi ma non faccio la torre Non faccio tanti danni Ah, ok, da buttarla giù Non è come il mazzo solito che ho col pecca dove ho sia la rete che il pecca che possono attaccare Una cosa che magari non sapete ma sicuramente qualche altro youtuber ve l'ha detto La capra può difendere molto bene Poi se ho culo ve lo faccio vedere ma non credo di aver culo Quindi iniziamo subitissimo Come vedete ho droppato come un coglione perché giocare a quelle arene è veramente veramente difficile Come vi dicevo, buona anche difensiva Vediamo se riesco a farvelo vedere Ho droppato come un coglione appunto per provare questo nuovo mazzo perché purtroppo per adeguarsi Ok, non mi interessa particolarmente Quello mi interessa invece di più Bisogna essere... Muflone! Muflone Johnny! Dai! Che palle! Mi sta già dando un fastidio Eh no, sarà un bel po' duro L'ho trovato un bel mazzo di merda Sono tutti all'undici L'ora? No vabbè grazie al cazzo Sto giocando delle arene Che è normale che sia all'undici E testi E testi i mazzi E testi i mazzi a queste arene? Sì, sì Sono scemo Quindi niente Adesso vediamo se riesco a cavarci un ragno dal buco Dubito Perché anche il suo è un cycle deck Abbastanza competitivo e ignorante Da stiro un tronchetto Poi me lo potevo risparmiare tranquillamente Tanto ormai le sberle le ho prese Porca di una vacca Salve Lei È così forte la capretta di difendere? A difendere non è fortissima Utility ma non è fortissima Vai capretta Bella che l'ha saltato No! No, no bastardi Eh niente Entra No, non è entrata E adesso sono in merda Perché erano difensiva E i goblin sembra ma fanno un male È bestia Vabbè dai Li ho non tenuti Mi serve il tronco con la capra E ancora io sto aspettando Ho io una e l'altra Mi serve il tronco insieme alla capra È inutile Adesso vabbè Prendo gli schiaffi Viene giù la torre Vabbè Proviamo a risolverla Proviamo Proviamo a risolverla Non ho l'elisir Quindi non so perché ho giocato con uno di questi Sono scemo Va bene Sto giocando malissimo Dai Dopo le vacanze natale Sarei pieno di mangiare Si è troppo cibo Non ragioni È quello che mi dà fastidio Certo Non è perché sono nabbo No no È troppo cibo Fidati di me Non è perché sono nabbo No Non è perché sono nabbo Ma al momento sto giocando da nabbo Appunto Ho sbagliato Sto giocando alla light No sto giocando un po' peggio forse Addirittura Adesso carichiamo con il capretto Buono che me li ha tancati Buono che me li ha tancati Qui so già cosa mi tira Bravissimo Bravissimo Questo è un pre-wade atroce Mettete un light Ma che grosso è il tuo? Di che? Di tronco? Dai che la giochi la gang Dai che la giochi la gang Ecco che entra Ecco che è entrato È entrato Il muflone è entrato Il muflone è entrato Il bello è che attacca anche mentre difende Cioè mentre attacca Attacca anche le truppe Il che è una cosa buona Io qua no Non voglio giocare lui Voglio giocare quella grossa 10 secondi No 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 Non riesco a entrare Neanche per sbaglio Neanche per sbaglio Adesso la goblin grande Non la giocherà mai lì No non ce l'ho fatta Niente Niente Prima partita di merda Ho giocato malissimo Giochiamoci la seconda partita della giornata Hai giocato male eh? Male male Forse un po' peggio Dici? Come ho detto Forse anche un po' peggio Cioè sono umano anche io rega Ogni tanto sbaglio a giocare Vediamo un po' cosa abbiamo Benissimo Non c'ho una sega per attaccare Mettiamo qualcosa per difendere Ah poi vabbè ho portato sui livelli Ho portato su tutto Quel mago mi dà fastidio Anche perché al dottor Ovviamente qua gli account di livello basso Sto cazzo che li prende E' italiano Fumina Sportive Sportiveggianti Ispanico Ispanico Che vinchio Scusate Che nome strano No Ispanico Era il soprannome Di Come si chiama? Il gladiatore Il gladiatore Si faceva chiamare ispanico Si faceva Gli ha dato il soprannome ispanico Perché pensavano che non era Veloce 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 Poi non la tengo neanche Vai 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 Sono gli scelti Ecco appunto Eh gli scelti su furia E' un bordello Niente Ho preso Un mucchio di schiaffi nei denti E non mi sono difeso Perché non mi sto riuscendo a difendere Perché sono un po' Nabbo di recente Eh Non giocando tanto Eh Si di recente ho giocato poco Ma vaffanculo mago di merda Che fastidio Hai prediettato male? No Perché? Volevo uccidere il mago Il mago è morto quindi Pensavo che per gli scheletri Ah che palle Non uccido tutti gli scheletri L'ho giocato male il gelino Prendo due schiaffi anche lì Tanto ormai Signor Jack Mi lasci fare Mi lasci fare Non si preoccupi Giochiamo loro Allora lui ha le frecce Quindi devono stare un po' attenti Non so come vuole fermarmi la domatrice di Arieti Non sa che ho la domatrice di Arieti Perché adesso difendo In una maniera tutta mia Eccolo Eccoli Rottinculi Scusate la parola Voce del verbo Rottinculare Ah Vediamo forse l'ho tenuta meglio dell'altra volta Si perché dai non ti sono arrivati con la furia Mi è arrivato giusto quello E adesso contro attacco velocissimo Dermagua Ah me ne frego Dermagua Ah eh quelli mi danno più fastidio Orca miseria se mi danno fastidio Va bene va bene va bene Non è andata così male Non è andata così male Ehm no ho il tronco Eh però Sono più contento del tronco Perché mi permette di fare Anche quella Oh bella 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 Daie 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 Benissimo tornate indietro Maia Lonza Dai saltino Eh madre guarda che me la tira giù la torre No No Non sono riuscito a buttare Vabbè Non è aggiornata Non è che non è aggiornata Gioco male gioco male Lui ha vinto Posta Terminata la battuta No No sto giocando veramente male Vabbè lascia stare che hai livelli 3-4 più di me Vabbè E poi Vanno dove vogliono loro Niente No 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 Vabbè a parte i livelli più alti Non sto giocando proprio male A parte che un mazzo secondo me è molto più difficile da sostenere rispetto alla media Torna con l'altro che vinci dai Perché devo tornare con l'altro io voglio imparare ad usare la domatrice di Arieti 3-1 Un 3-1 Potrebbe essere abbastanza ignorante E si chiama meglio con la velocità Sicuramente più veloce Bisogna vedere Se anche sufficientemente difensivo Perché devi difendere bene Non è che devi difendere la K Vediamo Bene parte subito così ignorantissimo Noi difendiamo con poco 3-3 Siamo a pari Qui lui spreca Dai che forse ho trovato quello che non sa giocare Tiriamo il tronco in Prevade Anche se non ho la minima idea Dai 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 Era dove riscaldarti Prevade a 0 Eh no non puoi avere 2 orde Ma che fastidio Vabbè che tanto quelli non mi danno Non mi dicono niente Perché tanto alla torre si ci arrivano No neanche Vabbè c'ho messo la lapide ma non serviva Perché Ma perché Cioè non puoi beccare dei Prevade del genere Va bene Non so se tiragli una firepalla così bruciapelo ignorante Boh Non converrebbe Gigante Bene 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 Firepalla perché mi dann fastidio i I baracchini E poi con il Pecchino Con il peccolino Con il piccolo peccolo Con il piccolo peccolo Gli spacchiamo la testa Vabbè quindi mi aspettavo Non posso usarsi il coso No il tronco no Perché mi servirà per l'altra orda che c'ha Che la giocherà adesso per difendermi lei No No Che fastidio Adesso mi tocca difendere me Adesso metto questo qua Però rieschi di buttare a giù perché lui sta attaccando Ehi non riesco a fargli così tanti danni con il caprone No Eccoli Vai Distrutti alla grande Spero che mi vada in hit E' un altro vantaggio che ho in meno Con la palla di fuoco che faccio molti meno danni sulla torre La fulmine Cioè se ha 300 di vita Si però non riuscivo a portarla prima ho notato Cioè proprio era Faccio molto fatica Perchè per essere efficiente una fulmine Devi avere Non so così Vedi che Questo la ciclo molto più velocemente Adesso non so se vuole giocare un gigante ignorante Sembrerebbe Non lo so Adesso è lì che ci sta pensando No Gioca questi Quindi io difenderò in questa maniera qua Mi serve il tronco Mi serve il tronco Non c'ho giocato Buono Buono Tenuta al volo Bella la gelo Però mi hai attivato la torre ragazzo mio Perchè adesso la gelo fa danni Ah anche? Fa un po' di danni Non so se è nuovo update Ecco Me l'immaginavo Me l'immaginavo Però dovremmo averli tenuti un po' Si ma a me basta che anche solo che Hittino loro eh Mi basta veramente poco Tronco al volo Dai dai Te lo puoi fare Concentrati I miei arcerini Laterali Gioco subito la domatrice Gioca solo nel cimitero Si esatto E beh perchè è forte la cimitero quando inizia a ciclare Tiro al volo Tiro al volo una fireball in private praticamente Bene Andata giù Andata giù Chiusa la partita Non riesce più a recuperare Ma questo era un po' scarso secondo me Questi li caccio qua di lato Poi ci metto anche una capretta Volante Era giusto per difendere Perchè la capra è molto forte anche in difesa perchè tiene fermi Tipo se lui ti attacca di domatore e tu giochi la capra Il domatore non carica Il domatore sta fermo a guardare la torre che gli spara Ah davvero? Non è malaccio eh Si perchè Lei tiene ferma Tiene ferma la gente Infatti Lei ti impone di difendere proprio davanti alla torre Per forza O difendi con una Con un edificio Che la fai girare Oppure difendi davanti alla torre Perchè altrimenti Lei ti blocca il tizio All'inizio del river Lui sta fermo lì E tu vai diritto a torre Quindi Il mazzo è ancora da mettere a posto Siamo comunque sui 3k9 di trofei Non è che ho droppato i mille mila Ho droppato i centinaia di trofei Per provare il mazzo Il mazzo mi sembra molto buono E' un cycling Tipo un cycling Potrei provare di impostarlo sul cycle domatore Cioè sul classico cycling domatore Ma non mi piace il cycling domatore Perchè secondo me ha una difesa di merda Anche se spammi la roba E Si sei molto debole contro il golem Contro tutta la cosa troppo grossa E te sei scarso Si si perchè ci punta a ciclare Me l'avevi spiegato tanto Si esatto Quindi Questo mazzo è discreto Voglio portarlo Quindi aspettatevi altri episodi Dove giocherò con questo Spero di riuscire ad alzarmi di trofei abbastanza Ma dubito fortemente Perchè Da quando Nel momento in cui Scatti a sfidante 1 Non trovi più nessuno sotto il livello 11 Nessuno E se è sotto il livello 11 hai le carte al 12 Ah Quindi Bella Sto cazzo Quindi Sto pene Stai lì succhi come una merda Torni sotto Basta Va bene Noi per questo video vi salutiamo Direi che è terminato Vi ricordo di lasciare un like Di iscrivervi Di commentare Ci vediamo in un prossimo episodio Ciao a tutti Ciao ciao Ciao